Il nuovo piano di unizzazione di arreni passerà al 65% di schiaggia libere. La superficie che oggi occupano le concessioni è del 19% di metri quadrati e passerà al 5%, quindi stiamo parlando di edifici sul demanio dello Stato e quindi andremo a demolire il 14%. Vorrei ricordare che gli stabilimenti non sono di proprietà dei concessionali ma sono dello Stato e per quanto ci viene anche dato rispetto alla sottelega, noi abbiamo il compito di gestire sia le schiaggia libere sia le concessioni evaniane. Il PUA ridisegnerà completamente il lungomare, sui suoi 18 km circa di vitorale ed è fondamentale approvare questo regolamento per due ordini emotivi. Uno fondamentalmente perché dobbiamo rispondere alla legge, dove ci impone di avere il 50% oltre gli schiaggia libere e il PUA approvato. Questi sono gli elementi di base per consentire di concedere nuove concessioni evaniane. L'altro aspetto che è ancora più importante è avere, restituire ai cittadini la visibilità del mare. Come ha detto il consigliere Vitolo, spesso siamo, per valorizzare il nostro patrimonio, siamo costretti a fotografare il lungomare direttamente dal mare e non dalla passeggiata del lungomare. Io però voglio parlarvi anche di altre questioni fondamentali, perché noi, come sapete, il governo aveva dato 15 anni di proroghe interiori rispetto a quelle che già erano state concesse ai balneari. Quello che abbiamo fatto è chiedere alla procatura di Roma Capitale uscitalmente cosa dovevamo fare rispetto alla legge. E la legge ci dice che dobbiamo disattendere quello che è stato votato come legge di governo e non sulle proroghe di 15 anni, perché dobbiamo tenerci alla legge solo ordinata, quindi quella europea, la Polkest, che dice che bisogna andare a gara. Le concessioni scadono quasi tutte nel 2020. Pertanto dovremo necessariamente, e ritorno all'aspetto fondamentale, di portare avanti questo regolamento, questa delibera che oggi siamo chiamati a votare e ad esprimere le nostre osservazioni e poi eseguirà il suo iter in Assemblea Capitolina e a Regione Lazio. Questo è l'unico modo per poter abbattere il famoso lungomuro. Dobbiamo partire da questa situazione perché il punto zero non esiste rispetto a tutte le concessioni e le situazioni degli abusi che sono stati perpetrati per anni sulle spiagge. Il PUA ci caratterà assolutamente di emettere nuove concessioni, abbattere tutte quelle volumetrie che sono presenti sull'area Miele. Pertanto vi invito a considerare questi aspetti fondamentali. Io ritengo che ognuno che è seduto su questi scrani abbia la sua responsabilità chiaramente verso il proprio elettorato e rappresenta tutto il territorio. Però se effettivamente vogliamo arrivare a dare delle risposte puntuali alla cittadinanza non abbiamo altri strumenti che quello di oggi di votare questa delibera, le espressioni di parere di questa delibera, per poi dare seguito a tutti gli interventi che saranno necessari per restituire la visibilità del mare. Pertanto ribadisco, il 2020 scadono le concessioni, dobbiamo attenersi a quello che dice la Wolkenstein, dovranno andare a gara, pertanto per andare a gara ci deve essere il PUA a provare. Quindi vi chiedo un atto di responsabilità per portare avanti questa delibera, chiaramente ognuno fa le sue osservazioni, anche noi con la maggioranza abbiamo previsto una serie di osservazioni che andranno a migliorare qualche aspetto, non a modificare il pianto. Pertanto se vogliamo dare delle risposte concrete al territorio, e questo è l'unico aspetto che oggi va tenendo conto in quest'Aula. Grazie. Allora, ci sono tre question time che sono stati presentati, io ho le risposte, ma fate voi, se volete che io risponda dopo, risponderò dopo, se volete che io rispondo prima, rispondo prima, mi rimetto alla decisione dell'Aula, come volete voi. Cioè, mi potete rispondere. Non c'è stato un filologico appunto questa mattinata, perché voi dovete rispondere prima del Consiglio. No, perché il Consigliere William, allora vede, c'è una differenza nel regolamento, l'interroversione si mette all'ordine dei lavori e si risponde prima del Consiglio. Il question time durante il Consiglio. Quindi durante il Consiglio c'è un inizio, c'è una tiglia. Ma doveva consigliere William? Non mi non ci stai facendo. Non aveva fatto così tanto in tre anni, no? Ci parlare di tutto. Quindi vi chiedo ai diretti interessati, probabilmente che sono il Consigliere Malara, il Consigliere Mantuano e la Consigliera Masi, che hanno i question time. Ditemi voi quando volete che rispondo, e io sto a passare la risposta. Per me non c'è problema, possiamo anche poi intervenire sul tema, ovviamente è venuto i miei consiglieri e poi rispondere a questo. Allora, sono rimasti una decina di minuti per quanto riguarda l'ora che prescì l'intervento, dietro l'ora. Finiamo l'ora, facciamo finire. Possiamo finire con gli interventi che rientrano in questi dieci minuti, se lo Presidente vorrei parlare un appunto sull'ordine dei lavori. Quando di solito c'è una pretenza importante, si riunisce in urgenza anche un po' la Capitruppo e si concorda anche con i consiglieri come intervenire e come non intervenire. Io la prego la prossima volta che ci sarà magari un invitato illustri all'interno di questo Consiglio di convocare la Capitruppo e di concordare gli interventi e come organizzare il Consiglio così non si creano queste... si creano queste... Allora, Bazzi. Allora, Presidente, grazie. Io avrei apprezzato molto che la Sindaca avesse potuto ascoltare stamattina, lo dico nel merito, i consiglieri di opposizione che sono diversi gruppi, ve lo ricordo, ma voi siete molto concentrati, evidentemente lo è stato anche la Sindaca, su Salvini, venendo qui tra l'altro in modo, secondo me, abbastanza rituale a parlare a un'aula, ripeto, pluralista, facendo anche un attacco propagandistico. D'altronde, è quello che avete fatto stamattina, è legittimo, siete un partito in difficoltà, quindi fate una manifestazione qua davanti, mi chiedo quante volte sia capitato che la partita che governa il Campidoglio, il municipio, faccia una striscione contro il Sesaquì, però io chiedo quelli che sono passati oggi cosa avranno pensato qua davanti, dicevo, però avrebbero dovuto sapere, questo è stato un errore forse di comunicazione, che voi vi rivolgevate all'opposizione, la quale secondo voi la fate finita o no? Perché tanto la Guereschi vi concede e vi interrompe sempre, a noi no, un po' di decenza. Benissimo, allora avete fatto quello che avete creduto con lui, ci avete fatto fare questa passerella alla sindaca, per cui io ho molto rispetto, gliel'avrei voluto dire, peccato che lei Presidente ha fatto parlare tipo leva, quindi voi in realtà avete detto oggi con un bel cartello con un gruppo diceva l'opposizione contro la legalità, questa è una posizione ormai talmente chiara, banale, strumentale, perché a me veramente interessa poco le sorti dei partiti di Salvini o del 5 Stelle, però è legittima e ricorderei sommessamente che il primo giorno che abbiamo occupato ci ha dato un cartello pronto là sotto poi venite a fare le elezioni di democrazia contro Salvini, quindi smascheratevi un attimo, nel merito avrei voluto anche dire alla sindaca, lo dico a voi, che come componente civica autonomista siamo quelli che un annetto fa hanno denunciato una memoria di giunta capitolina fatta a cavallo tra il primo e il secondo turno elettorale che intendeva, voi non l'avete più fatto, meno male, togliere la teleca alle spiagge. Per chi considera questa una città e per chi considera i cittadini persone che avrebbero il diritto di dire la loro sul PUA pensate come posso valutare il fatto che invece questo PUA sia stato fatto in un periodo commissariale, poi mai qui se ne è discusso per due anni la sindaca non si è mai vista su questo, poteva forse venire prima e poi voi avete preteso un mese e tu fa dice questo è il PUA questa è la commissione ambiente di 5 ore l'ha pure rivendicata il presidente dice il presidente la commissione di turismo l'ho chiesta io non sono stati convocati nessuno nelle categorie dei sindacati delle associazioni nessuno quindi avete dato il contentino settimana scorsa avete completamente ignorato tutti gli ordini del giorno questo pure avrei avuto di razza che sono stati presentati ma ignorati proprio completamente cioè si guardi tranquilla presidente avete respinto ignorandoli con la testa bassa tutti gli ordini del giorno quindi tornando a bomba oggi io già so quello che succederà posso ipotizzarlo voi siete pronti a dire non vogliono battere con un muro quindi fatela voi un'azione sensata perché la mia opposizione è stata sempre come dire credo non strumentale cioè moderata nel senso che quando c'è da dire bravi ma come si fa a dire bravi se voi non avete una discussione non avete voluto fare la settimana allora oggi se volete aprite un confronto sui contenuti per mettere dentro semmai delle correzioni perché preme a tutti non solo a voi e questo giochino che c'era prima chi c'era oggi già veramente stancato ma probabilmente lo condirete perché dovete fare propaganda partidica entriamo nei temi e diamoci il tempo dovuto senza cartelli pronti che spero non avete beh grazie in verità in verità in verità in verità in verità allora io veramente sono essere fatta da quello che oggi abbiamo potuto constatare la sindaca ha compiuto un miracolo questa mattina perché da quante volte abbiamo richiesto la presenza in aula della presidente dell'assessore c'era il direttore c'era Ferrara oggi la sindaca ha compiuto un miracolo ed eravate tutti pronti a far valere le vostre ragioni tutti pronti ad accionare il microfono quando in genere qui parla solo il consigliere Vitolo del PUA dato che alla seduta scorsa abbiamo chiesto per un'intera giornata la presenza dell'assessore Ieva che non ha detto una parola oggi davanti alla sindaca Raggi tutti tutti a farsi belli del proprio lavoro oggi avete organizzato la presenza in aula tutti pronti a parlare dopodiché io se la presidente mi avesse fatto parlare proprio per far valere quelle che sono le motivazioni di un'opposizione che non viene ascoltata le avrei detto che per esempio per farci io ho sempre come sempre la lista che mi ha detto sempre a posta delle posizioni un po' dovreste fuori minuti mi calcola un po' a volte voi siete venuti a controllare delle varie sedute in questo periodo in cui siamo state qui in aula e la mia lista è sempre in questa cioè io non è che metto nomi a caso io prendo i tre venti a secondo di chi alza grazie presidente ma esiste una maturità politica che va oltre quello che è un regolamento e siccome la maggioranza ha la possibilità di interfacciarsi spero più di noi con la sindaca credo che poteva essere come sono per parlare prima l'opposizione che la maggioranza ha detto questo su un'opinione ovviamente ci dovrebbe essere un'alternanza tra maggioranza e poi quando mi faccio che l'intervento vi chiedo due minuti in più allora forse le voglio ricordare che sono l'unica persona che saba che può interrompere un consigliere che si sa facendo questo e le voglio ricordare che la mia lista è sempre a disposizione ci dovrebbe essere un'alternanza tra opposizione e maggioranza ma che spesso non rispetto neanche tanto è vero che ci sono il consigliere ora questi rimasti ha parlato il consigliere Pozzi poi c'è la consigliere Queglia poi di Torno poi di Luca un'alternanza quindi non è anche rispettato un'alternanza bene allora riformulo la frase così almeno posso completare il mio intervento o più o meno iniziarlo visto che non l'avevo neanche iniziato dicendo se la sindaca ragiavesse avuto la maturità politica di rimanere o comunque la possibilità di farlo e di rimanere in aula ed ascoltare quelle che erano le motivazioni dell'opposizione forse sarebbe creata una discussione più costruttiva e non avremmo assistito solo ad una passerella della sindaca ok detto questo se vuole ripartere anche su questo se no possiamo andare avanti se la sindaca fosse rimasta gli avrei detto per esempio che per far accedere i cittadini liberamente al mare senza pagare o per fare aprire i parchi o per appunto permettere una visuale del lungomale o per fare la regola e la ricadenza delle concessioni non c'è bisogno di un nuovo PUA non c'è bisogno di far rispettare solamente l'ordinanza che la sindaca emana una in inverno e ora nella stagione invernale perché tantissime sono le denunce che sono state fatte dai comitati e dai cittadini sono state fatte tantissime denunce dai comitati dai sottoscritti dai cittadini verso quelle che sono le regolarità verso quelle che sono gli abusi per far rispettare l'ordinanza che voi per primi dovreste far rispettare perché non viene mai rispettata invece la sindaca oggi è una permanenzione di legalità quando non viene rispettata quella che è la sua ordinanza e quando gli strumenti che avete a disposizione vanno ben oltre un PUA che dovrebbe essere votato in Aula e poi avremmo detto anche alla sindaca che oltre la mancata partecipazione che c'è stata dei cittadini e il mancato coinvolgimento dell'opposizione la serenità della maggioranza si è dimostrata la scorsa volta quando presentando circa una ventina di ordini del giorno tra partito democratico e gruppo miso e ci dico a sottolineare ordini del giorno che non chiedevano niente di straordinario o particolare voi li avete bocciati senza neanche leggerli e veramente erano ordini del giorno che andavano a chiarire e andavano a evidenziare delle criticità che voi ancora non avete spiegato perché io ho chiesto in sede di commissione come gli abusi esistenti venissero bonificati diciamo come venissero qualificati con un uro a spese di concessionari perché non di quelli esistenti avevo chiesto questo avevo chiesto che era partito per lineare con i compagni con i compagni lei mi ha fatto parlare per il commesso beh bene parlerò dopo siamo tutti a un momento che sembra senza uscita il laboratorio civico non sopporta più la perdita di risposte concrete ai cittadini fermandosi soltanto alle parole tre consigli soltanto parole senza fatti quindi dobbiamo però io richiamo la responsabilità sia della maggioranza che nostra di tutte e due la responsabilità della maggioranza la considero un fatto che non ha accolto gli ordini del giorno unanimi di tutta l'opposizione l'altra volta unanimi l'assemblea cittadina un'assemblea cittadina di attenzione scusate ma ma sarebbe se voi accettaste questo se accettaste questo piccolo suggerimento si sbloccherebbe la situazione tre settimane perdute completamente altre se ne perderanno ancora solo per un semplice motivo per non dare questo questa posso parlare posso parlare si tratta della alfabetizzazione del PUA cioè noi dobbiamo dire ai cittadini non soltanto alle associazioni competenti non soltanto a noi che abbiamo avuto cinque ore e un'ora e mezza dell'ingegnere Francesca De Luca che ci ha spiegato bene con le slide e siamo soltanto noi e soltanto gli attenti ai lavori ma i cittadini che stanno camminando le strada che stanno camminando il lungomare in questo momento perché non dargli l'occasione di un'assemblea pubblica a teatro del Lido quando poi abbiamo fatto assemblee pubbliche sulla plastica abbiamo fatto assemblee pubbliche alla Lipu ma che cosa ci vorrebbe per fare questo quindi io invito veramente la maggioranza a fare questo oggetto di responsabilità di alfabetizzazione del PUA nei confronti dei cittadini che non sanno cosa significa la stessa sigla e dare a loro l'occasione in una assoluta pubblica di spiegare quello che l'ingegnere ci ha spiegato molto bene per la quale io avevo accolto in commissione ambiente votando favorevolmente perché mi aveva convinto che la visibilità del mare sarebbe aumentata e che le spiagge libere avrebbero avuto i loro servizi però in questo momento scusate sto per concludere in questo momento io sono molto deluso sono molto amareggiato per cui il mio voto se non avverrà l'assemblea pubblica cittadina di alfabetizzazione dei cittadini su questo argomento voterò contrario e se ancora si dovesse andare avanti l'inutività dei consigli municipali per dovere di rispetto dei cittadini che io come vista civica rappresento direttamente abbandonerò l'aula grazie 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 presidente allora va bene diciamo che questa la sceneggiata con la sindaca la sindaca la fastidio la fastidio la fastidio adesso lo faccio io adesso lo faccio io ma senza la fastidio ma finito allora no io continuo io continuo non si preoccupi dico la sceneggiata nel senso che poverina come la madonna pellegrina ti hanno detto vieni giù vieni giù vieni giù che non sa nulla del qua vieni giù l'hanno portato a qui così geneticamente tutti ah in PUA una giornata storica credo che la sindaca non sarebbe noi gli avete spiegato PUA che cos'è che ha utilizzato perché credo non lo sappiate meglio mi è venuta per darti un po' di copertura a Mediatina su una cosa che sapete che state indipendentate perché perché dico questo la sindaca ha avuto quattro anni ma sai quattro anni quanti abusi si potevano sanare al di là del PUA perché se c'è l'abuso il comandante dei vigili di O il comandante il comandante ascoltate anche voi della maggioranza perché venite a conoscenza venite a conoscenza di cose che non sapete allora il comandante i vigili urbani hanno fatto decine di verbali agli stradimenti e me li hanno mandati c'è qui anche il direttore sono stati mandati tutti i verbali per dare seguito alle infrazioni sull'ordinanza che hanno riscontrato che cosa avete fatto? niente perché perché non l'avete fatto rispettare perché non l'avete fatto rispettare guardate questo è grave cioè che il comando dei vigili dimanda ai verbali che ha riscontrato delle irregolità e voi non avete fatto nulla si può ravvisare una missione d'attitudinio se non reati in profili più gravi perché il comandante ha fatto il suo dovere voi che siete per la legalità per la legalità quando li vanno a voi avete messo nel cassetto tutti i verbali e i vigili urbani e voi vi state dando seguito voi siete la legalità quando vi fa comodo perché la verità è un'altra che il nuovo movimento che doveva abbattere il lungomuro fare la rivoluzione si è subito appena entrato ha colcolato insieme a Bernari e alla lobby dei balneari e non ha scarpito in quattro anni non ha fatto nulla che possa disturbare tanto è che voi avete visto mai oggi avete visto mai un titolare di Sapirini in protesta per il PUA avete visto mai qualcuno di loro allora volevo dire della rivoluzione di merito che questo PUA non è stato fatto da voi è stato fatto dal commissario Gumpiani voi l'avete preso dal commissario pari pari l'avete preso e l'avete adottato grazie quindi e tutto questo PUA ci sono delle cose che i cittadini devono sapere che sono granissime non è un PUA a favore della città è scritto a quattro anni con i balneari per questo voto che dice della lotta cittadini da questi per questo ora mai non c othera più nessuno vediamo il Auggia la PUA ma la PUA o la PUA che hanno nato e abbiamo già scoperto 1972 ricorda la presità che fate Grazie a tutti. La collega che magari si poteva anche programmare questo intervento in una capigruppo o altro. Detto questo avete deciso di gestirla così, quindi va bene. Qualche imprecisione è stata detta, nel senso che anche la questione della condivisione dei documenti, se come ha detto Ricci la maggioranza studiata a Natale avete avuto i documenti sicuramente molto tempo prima di noi, visto che noi li abbiamo avuti la settimana prima, ha fatto nell'intervento, ha detto questa cosa. Quindi se voi li avete studiato durante le vacanze di Natale avete avuto due mesi più di noi che li abbiamo avuti la settimana della condivisione. Noi l'abbiamo avuta, era emesso anche in commissione che a noi non è arrivata, tant'è che lei ci ha impegnato a consegnarla alle segretarie dei gruppi e che l'abbiamo avuta la settimana prima. Penso sia una cosa... Già iniziare a leggere, avere la possibilità di leggerlo, poi la comprensione è soggettiva, ma almeno avere la possibilità di tutti leggerlo, perché sono convinto che neanche tutti quelli della maggioranza l'abbiamo detto e capito. Sicuramente anche da parte nostra ci sarà qualcuno che lo legge e lo capisce e qualcuno no. Però almeno dare la stessa possibilità a tutti sarebbe stato positivo. Stiamo restando che si continui a parlare di legalità. Non c'è il suo schermo ma poi c'è il tempo. Va bene, sì, mi tiro il tempo che ti ammè. Il provvedimento, se fosse stato troppo urgente o così tanto urgente da dover richiedere un passo a favore della legalità, poteva anche passare in giunta e magari si evitavano tante polemiche. Anche perché sappiamo che il parere del Consiglio non è vincolante, ma quanto è sembrato stamattina è cavalcabile. Perché politicamente, effettivamente, a parte che è la prima volta, ed è singolare, che si vede una manifestazione della maggioranza a casa propria, quando c'è lo stesso sindaco, dello stesso colore, quindi da questo punto di vista è poco comprensibile. Probabilmente è cavalcabile l'evento, quindi si sta dicendo che chi non vota in PUA è contro la legalità, quando sappiamo tutti e sapete tutti che non è questa la questione della legalità, anche perché questo PUA, fermo l'estando del nostro parere non è vincolante, si inquadra in quello che poi sarà quello regionale, che è in approvazione e che ha tracciato già delle linee guida sotto le quali il nostro non si riuscirà a inquadrare e quindi probabilmente sarà da resettare e rifare, però capisco anche che politicamente in questo momento, come è stato per il PUNS, anche questo PUA sarà un libro dei sogni che magari ai prossimi che amministreranno, chiunque essi siano, rimarrà la cosa di dire ok, adesso noi abbiamo fatto chissà quando si vedrà la luce in questi progetti. Mi dispiace che il sindaco sia venuto solamente per fare la passerella, che non ha fatto e è andata via, se era venuto per rimanere in aula e cercare di capire anche se c'è una problematica, mi dispiace sia andata via qui, ma anche perché effettivamente avrebbe voluto approfittare del passaggio a Ostia per verificare anche altre, diremmo, che in casa nostra sono l'ufficio anagate, che nonostante la controinformazione ancora sta senza vero, e i vari, in mezza degli uffici che ancora non è agibile nel problema per ammangiare, piuttosto che il riscaldamento. Sappiamo quali sono le felicità, anch'io spero che in giornata si possa riuscire a fare una capilluppo, cercare di capire come vogliamo impostare questo voto, fermo restando che si può aderire al voto a prescindere dalla legalità che dovrebbe essere il cardine di tutti noi, e quindi non si può pericolare il voto sulla legalità. Mi auguro che entro oggi anche ci sia un passo della maggioranza nell'ottica di collaborazione anche semplicemente sui allenamenti e non la presa di posizione che invece si è registrata nell'ultima settimana. Grazie. Grazie a tutti. Io voglio cercare di portare gli animi dopo questa mattinata, dopo questa parte di mattinata in maniera distesa. Io do la mia solidarietà a tutti gli uffici, a tutta la parte politica che governa in questo municipio per l'atto di arroganza fatto dal sindaco di Roma questa mattina, che di fatto ha commissariato voi e non noi. quindi per me è veramente, ti sono vicino in questo momento dritto, anche per lei, non me ne voglia, però sono avuto a spagare a zero, quindi veramente solidarietà. e cerchiamo di capire se siete amministratori, presidenti e certe cose si possono risolvere da soli senza chiamare mamma Roma. perché tanto mamma Roma non ci sfida per niente, non è che è andata a farci un tiro per una ragazza dove mancano ancora i geniti, mancano i geniti dal pubblico. Eh, Presidente, questa è la punti dei piedi dal pubblico di l'Ame, non è che lo vi dov flaggevo, ma per l'altro ci dovrà essere color lizardet, non è che ci sia un tonal03 dirt appointments, potete fare il senso? Dico quando hai mai maleрав notorious, sai il sito. Dico quando hai, comunque ho ovvenuto, zitto, di sanzito. Dico quando lì Forsanti. Ma una piccola questa piccola cosa va da finire, hai fatto la sceneggiativa tua? Cerca dalle 10 che non riprende vorbei così la vaffinita. solo quando lo riprendete la diffusione guarda, c'è il piano del delegato hai fatto il show basta dalla finita quanto è il fatto? un servizio e poi scemo che dice un altro scemo che dice un altro hai capito? hai capito? scemo che dice un altro allora, voglio ricordare che comunque gli interventi sull'ordine dei lavori no, è sull'ordine dei lavori e lei fa sempre questo onore grazie oggi l'ho disturbata con questo question time perché credo che i cittadini abbiano bisogno di una risposta rispetto ai lavori che partiranno sulla via del mare noi non dimentichiamoci che abbiamo ma noi siamo su schizzi a parte siamo su schizzi a parte su schizzi a parte senza parte fate ritornare alla sindaca non c'è la fare di più è una question time allora, Presidente, ricomincio e le dicevo io ho presentato questo question time perché i cittadini credo che abbiano bisogno di risposte rispetto ai lavori che sono stati annunciati sulla via del mare e al fatto che sarà a senso unico alternato dalle 9.30 alle 16 per un marco di tempo abbastanza lungo partiamo dal presupposto che abbiamo come dicevo a prima di Roma la via che stava lungo 50 all'ora il trenino che si ferma lo sappiamo ogni due treni e la via del mare adesso è 30 all'ora non lo so come faremo veramente ad aggiungere il centro della capitale vorrei capire se sono stati studiati tutti i possibili piani di abilità nel senso se effettivamente l'unica soluzione è questa perché alle 9.30 di mattina ancora spesso la via del mare è statata se davvero insomma il municipio ha avuto poi c'è il capitolo in questo se non c'era un'alternativa in merito e effettivamente quantitaranno anche le rispettive di percussione sul traffico tenendo conto anche del fatto che come dicevo anche lì al sindaco le risposte della polizia locale poi alla fine come ben sappiamo non sono proprio limitate quindi io contempo che ci siano effettivamente dei problemi di riabilità molto gravi nel collegamento tra il mare e il centro di Roma e in questi giorni in cui ci saranno i lavori in più vorrei per chiaro anche che le più ingegnerie dei lavori sono perché nel comunicato stampa non era molto molto non era specificato e mi riservo adesso finisco sono giovedì 8 mi riservo magari poi di fare una domanda se la cosa non sarà chiara in effetti sì c'è questa notizia di questi lavori che ha effettuato sull'ambiente del mare notizia sulla stampa diciamo confermata dalla disciplina di traffico che ha emesso la polizia locale che proprio in cui si specifica che dal giorno 24 febbraio al 14 marzo come lei esistamente ha ricordato ci sarà limitatamente alle ore dalle 9 e 30 alle ore 16 questa esibuzione provvisoria di senso unico alternato e limite di velocità per la calura perché perché devono effettuare dei lavori un'indagine dei sondaggi geognostici al fine di individuare lo leggo perché così è specificato e voglio essere precisa di intervento di realizzare per la messa in sicurezza di quel versante di via del mare in cui c'è uno sfrottamento c'è un avalamento un cedimento evidentemente quindi devono fare per forza queste intagini per capire da cosa dipende e quindi mettere ovviamente in sicurezza la strada questo è un intervento gestito dal dipartimento prossimo però ci sono degli ulteriori sviluppi nel senso che appena io ho visto questa disciplina mi sono immediatamente scritto una lettera all'assessore Meleo chiedendo chiedendo di effettuare i lavori la notte in modo tale da non incidere più e questa è una prima lettera che io ho scritto ieri durante la mattinata successivamente ho avuto la telefonata del comandante Salguni perché sempre nella mattinata di ieri c'era stata una ulteriore riunione con la ditta i nostri vicini eccetera in cui è emerso che in realtà questi lavori dovranno essere effettuati in tre tornate però che passano dal pomeriggio di un giorno fino al pomeriggio del prossimo successivo perché c'è una macchina che deve operare fondamentalmente e quindi loro hanno bisogno di montare questa macchina fare questo intervento di seguito e poi smontarla cioè non usare una macchina all'attito quasi in tempo quindi io in questo caso ho immediatamente riscritto un'altra l'intera rappresentando i problemi con qualche sull'aria del mare infatti che ci sono queste difficoltà di raggiungere Roma anche a causa di servizi della Roma Niro e quindi chiedo in realtà di poter rifare per lo meno il santo della domenica evitando i giorni feriali e includendo il giorno dell'8 marzo che c'è la Maradona e la situazione è ferma ieri a queste mie quindi è ancora che mi chiede io appena ho notizie successive Presidente si chiedo di relazionare ovviamente sulle novità e se posso avere una copia delle lettere grazie sì grazie Presidente in merito al giorno del Consigliere De Luca noi vorremmo presentare due emendamenti posso prendere il documento il documento soprattutto se impegna nell'impegno praticamente del Presidente giustamente appunto rileva la necessità di ricavare il 50% di spiaggia libera con accesso al lungomare aperta ai cittadini su tutta la superficie lineare della spiaggia libera individuata con un criterio di alternanza ora in questo senso dato che noi abbiamo presentato anche due emendamenti che potrebbero essere aggiunti all'ordine del giorno sono l'emendamento con protocollo 137 18 non so se di risultato C0 guardate un attimo CO in cui si chiede di appunto organizzare anche la parte prospicente al lungomare con parcheggi partigiochi percorsi naturalistici vissi come anche ricongiungimento tra il mare e la pineta l'altro emendamento che può inserirsi benissimo in questo ordine del giorno è quello praticamente riferito in CO C0 scusate 137 18 in qui ho scritto allora sarà 178 perché ho quei numeri uguali sono forse lo stesso protocollo scusi in cui praticamente si dice di convertire le strutture dei stabilimenti baniari per tipologia dei materiali usati sia per dimensioni in strutture ricettive farò favorendo la massima produzione degli stessi da parte dei disabili questo in qualche modo si inserisce con quello che è stato praticamente preannunciato messo a punto nell'ordine del giorno di De Luca in cui si chiede di utilizzare la superficie di spiaggia per quanto la parte che è ridotta dai manufatti dai servizi degli stabilimenti senza un adeguato accesso al lungomare ecco in questa parte del lungomare dovrebbe quella prospicente quindi davanti dovrebbe secondo voi essere utilizzata per una maggiore funzione da parte anche delle strutture ricettive da parte dei disabili e soprattutto invece attrezzare la parte prospicente con quelle che sono diciamo tutta la parte ricettiva e tutto ciò che ad oggi chiaramente è totalmente abbandonato quindi chiedo di appunto poter aggiungere questi due ordini del giorno e metamenti all'ordine del giorno appena disposto grazie signor 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 signori signore io accetto gli avventamenti voglio anche un momento emotivario, nel senso che ritengo che questi due documenti non fanno altro che implementare, riqualificare, valorizzare il lungomare con questi servizi che riguardano anche e soprattutto riguardo anche alle famiglie, perché stiamo parlando di gestioni ciclabili, aree multifunzionali, parchi giochi, quindi tutta una serie di interventi che possono avvicinare il più possibile, rendere l'ospitale accogliente la spiaggia, ripeto, anche le spiagge libere e quindi questo è un compito dell'amministrazione a favore di quanti, ripeto, hanno anche dei condizionamenti dal punto di vista del reddito, per cui non possono permettersi tantissime cose, però l'amministrazione con questi interventi vuole realizzare e offrire una ospitalità limitosa, sopperendo a queste necessità dei cittadini. Quindi ho motivato perché nel certo del rispetto del proponente ritengo giusto che io per rispetto e vi spiego e valorizzo il motivo della mia... che accetto i due vendamenti. Grazie. Marchesi, prego. Sono un risultato importante lei che mi ha parte dell'Aula, però oggi noto che sullo schermo dove voi proiettate le slide avete pensato bene di spostare il Presidente Mattarella e prenderlo lì quando è sempre il governo del Procifisso. Quindi io chiedo a lei di sospendere 5 minuti il Consiglio, rialzare il piede, perché io il Procifisso lo porto al corpo. No, per il fatto di illuminare un po' voi, per dargli un po' di fede, cosa che non avete, che magari adesso le riportano. Sì, è il governo del Procifisso, è un'Aula istituzionale, scusate, questo non può essere... Non chiamato. Ma che ho chiesto? Ma che cosa ho chiesto? Ma che cosa mi hanno dato? Ma quale lo ha? Ma che va, come no? Ma chi si chiudia a fondo? E me lo so. Sì, io so che in questo momento, scusate, io ti metto veramente il Procifisso, Proberto, per contesiari il pubblico può fare quello che sta facendo il pubblico può fare quello che sta facendo il pubblico e il pubblico è un po' di rispetto 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 ma al di là di rispetto se il pubblico è un po' di rispetto non viene meno assolutamente il pubblico è un po' di rispetto che è un po' di rispetto che è un po' di rispetto che è un po' di rispetto e la vita che è un po' di rispetto che è un po' di rispetto che è un po' di rispetto il pubblico è un po' di rispetto che è un po' di rispetto perché non c'è lungomuro, non c'è niente, sono continue una dopo l'altra nell'ambito invece della parte sud del lungomare perché quegli spazi di spiaggia libera dovrebbero essere assai visibili e come per le spiagge di Ponente si diceva che si sarebbero dati dei colori in base agli attraversamenti anche questo bisogna farlo con le spiagge libere in alternanza degli stabilimenti in maniera tale che sia visibilissimo il fatto che lì si tratta di una spiaggia libera dichiarazione di voto chiaramente voto a favore proprio per la visibilità massima delle spiagge libere che sono in alternanza agli stabilimenti grazie Presidente io anche in questa occasione non capisco perché un documento che dà forza a quello che la maggioranza sostiene a chiare lettere ovvero di restituire la spiaggia ai cittadini garantendo quelle che sono le percentuali che ci ripetono dalla prima seduta perché dalla prima seduta di consiglio sul PUA che io sento parlare solo di queste percentuali senza poi che effettivamente venga spiegato come queste spiagge libere vengono raggiunte perché poi se si parla di questa benedetta passeggiata lineare si capisce come ci sono effettivi problemi a questo raggiungimento comunque non capisco perché da parte della maggioranza ci sia la volontà di votare contrariamente a un documento che darebbe forza a quello che sostenete voi ovvero un maggiore accesso alle nostre spiagge e il raggiungimento tramite gli accessi anche ai stabilimenti di queste spiagge libere io non so se mi è mai capitato di incontrare dei turisti che dalla stazione di Rio Centro si dirigono verso il mare e appunto far capire a loro dove si trovano le spiagge libere attualmente sul nostro territorio perché attualmente o per raggiungere che bisogna fare una gincana oppure bisogna essere accompagnati dall'addetto ai servizi di ogni stabilimento che mano per mano ti porta sulla battiglia e lì forse stai al sicuro quindi sostanzialmente questo documento ma come gli altri documenti presentati dal consigliere De Luca e sottoscritti da me molti di questi orvi del giorno danno forza a quello che voi dichiarate o vanno a sottolineare e a correggere alcune mancanze, alcuni errori evidenziare alcune lacune che sono evidenti nel tuo e dall'altra parte da noi ci facciamo fare ostruzionismo voi invece secondo me avete poca serietà nel votare un documento che non chiede cose che vanno contro quello che credete voi questo e gli altri precedenti quindi io invito la maggioranza a votare veramente con la massima chiarezza quelli che sono gli ordini del giorno e la coscienza come dicevamo, sono in scienza e coscienza votate questi ordini del giorno perché secondo me anche voi non avete chiare delle cose e questa potrebbe essere l'occasione per dimostrare che le decisioni che prendete non mi vengono comandate dall'alto non mi cadono sopra ma che siete coscienti di quello che state votando e che forse questi ordini del giorno proposti dall'opposizione possono solo andare a migliorare quello che è un lavoro non fatto da voi grazie giusto per tra virgolette ammorbidire perché nel documento adesso non qui c'è la parola eliminare nel dispositivo noi chiedevamo di modificare con approfondire il tema Nella per quanto riguardava la situazione della passeggiata lineare c'erano state le situazioni che all'inizio quando abbiamo parlato in capigruppo sembravano comuni quindi siccome forse eliminare dal punto di vista della maggioranza era troppo estrema tra virgolette come provvedimento noi proponevamo sempre se il consigliere De Luca accetta l'emendamento di sostituire la parola eliminare con approfondire il tema Nella naturalmente se la parola è ottima il fatto che se si ha l'intenzione poi di valutare positivamente il documento ha senso effettuare una modifica del genere altrimenti insomma è secondario poi faremo la dichiarazione di voi grazie 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 a tutti